Sì, questa amministrazione e anche io come Presidenza del Consiglio Comunale sosteniamo queste iniziative anche perché oltre a coinvolgere moltissimi ragazzi coinvolgono associazioni teatrali, culturali e attraverso questi messaggi che viaggiano nel tempo, ricordiamo che il nostro Comune ha onorato il giorno della memoria già da 55 anni attraverso tutta una serie di iniziative che hanno proprio l'obiettivo non solo di portare a conoscenza e approfondire ma anche quella di saper leggere con strumenti più adatti, quelle che sono le affermazioni, le immagini e anche alcune comunicazioni che ci sono al giorno d'oggi che non sono propriamente adatte anche a un approfondimento e a un'onoreficenza di questa giornata.